Il numero 1 di ProSport Estense è una mattinata importante per la realtà nata qualche mese fa. È stata presentata la campagna pubblicitaria di crowdfunding. Quali sono gli obiettivi che hai per questa campagna? A prescindere dalla bontà di un progetto senza risorse economiche la realizzazione diventa difficile in qualsiasi ambito. La campagna di crowdfunding è tesa sia a far conoscere quelle che sono le finalità di ProSport Estense che a recuperare le risorse necessarie sia ad aiutare le squadre sportive che oggi si apprestano in cominciare alle proprie stagioni, sia anche a continuare nell'implementazione del progetto di ProSport Estense. Grazie. Grazie.